Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPV dove si segnalano quodi a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, stanotte in orario 22.6 resterà chiuso il tratto tra Ponte d'Era Oves Ponsacco e Ponte d'Era Est in direzione Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Bologna a code per traffico intenso tra Firenze Nord e Bivio con la variante di Varico Baccheraia. In A11 per lavori di pavimentazione, stanotte in orario 22.6 sarà chiuso lo svincolo di Alto Pascio in entrata in direzione Pisa e in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!